Siamo in compagnia di Filippo Annunziata, dello studio legale Annunziata in Conso, a un evento sui nuovi strumenti per la finanza immobiliare, quindi SICAV, fondi immobiliari e CICU. Gli chiediamo di cosa si è parlato nel corso del suo intervento. Il mio intervento ha messo in luce i punti di contatto e le differenze tra le due forme che oggi possono assumere i fondi immobiliari in Italia, cioè la forma tradizionale, il fondo contrattuale, e la novità rappresentata dalle società di investimento a capitale fisso, le SICAV, che proprio in questi giorni stanno muovendo i primi passi con le prime autorizzazioni che verosimilmente saranno rilasciate dall'autorità di vigilanza. Si tratta di due modelli molto diversi sul piano formale, uno è un contratto, un patrimonio separato, l'altro invece è una società per azioni che ha un oggetto del tutto assimilabile a quello di un fondo di investimento, però ha personalità giuridica ed è disciplinata innanzitutto dalle norme del codice civile applicabili alle società per azioni. Nel mio intervento ho voluto da un lato sottolineare le differenze tra i due modelli, ma anche i punti di convergenza, perché questi due modelli non sono puri. Il modello contrattuale non è semplicemente un contratto e la società non è semplicemente una società. Nel modello contrattuale abbiamo molti elementi che derivano dal mondo societario, l'organizzazione, la separazione patrimoniale, a mio parere una soggettività molto forte di questo patrimonio contratto e dall'altro lato nella società invece abbiamo delle deroghe profonde alla disciplina di diritto comune, in particolare per quanto riguarda il capitale, le forme di raccolta dei capitali, la SICAF non può emettere obbligazioni a differenza della società di diritto comune e poi la possibilità di affidare la gestione del patrimonio a un gestore esterno ricorrendo a una forma di eterogestione che priva gli amministratori della SICAF della loro competenza naturale che sarebbe quella di gestione del patrimonio. Questa competenza viene traslata all'esterno secondo un modello che evidentemente deriva dall'esperienza dei fondi contrattuali. Se si dovessero tirare le somme e scegliere tra un fondo immobiliare e una SICAF, per quale si dovrebbe optare? La domanda non ha una risposta, ogni caso fa storia a sé, certamente la SICAF oggi dà maggior certezza agli investitori perché innanzitutto è chiaro che la SICAF è una persona giuridica, è una società per azioni quindi può dialogare col mondo esterno, stipolare contratti, interagire, affrontare contenziosi, gestire anche situazioni di crisi secondo schemi più tradizionali che sono quelli del diritto societario mentre il fondo contrattuale, nonostante noi lo conosciamo da molti anni, vive ancora di molte incertezze da questo punto di vista. L'altro rovescio della medaglia è che il fondo contrattuale lo conosciamo da tanti anni quindi ne conosciamo punti di forza e di debolezza. La SICAF è un neonato che soltanto adesso comincerà a muovere i primi passi e dunque è caratterizzata da un processo di apprendimento da parte del sistema che è tutto da costruire. La SICAF è un'anima